Ciao a tutti, oggi prepareremo la frittata di spinaci ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono spinaci surgelati, uova, ricotta, aglio, olio evo, pangrattato, pecorino, parmigiano, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e l'aglio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale, aggiungere gli spinaci e cuocere per 12 minuti, 100 gradi, velocità 2. Lasciare intiepitire per 10 minuti. Trascorsi i 10 minuti aggiungere le uova, la ricotta, il sale, la noce moscata, il pepe, il pecorino, il parmigiano, il parmigiano e il pangrattato ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Trasferire in uno stampo da 24-26 centimetri rivestito con carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-30 minuti circa. La frittata è cotta, trasferire in un piatto da portata e servire. Frittata di spinaci ricotta, grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.